C'è un docente in Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano dove mi occupo di studiare le disuguaglianze, con particolare attenzione alle disuguaglianze di genere ed etniche e le politiche sociali. È la prima volta che mi impegno attivamente in politica, sono stato a lungo iscritto prima nei BDS e poi nei DS, quindi ho aderito al Partito Democratico e penso sia giunta l'ora di contribuire e dare una mano al bene della nostra città. In particolare vorrei occuparmi di istruzione perché penso da papà ma anche da studioso che la scuola possa essere, anzi dovrebbe essere il principale strumento per costruire cittadinanza, una cittadinanza consapevole, una cittadinanza informata dei propri diritti ma anche dei propri doveri e dunque responsabile. Quello che accade oggi invece è che molti dei problemi della nostra società sono legati alla bassa qualità della scuola, al fatto che la scuola continui a riprodurre le disparità che ci sono all'interno della popolazione. Io vorrei impegnarmi affinché non ci siano persone più fortunate perché abitano in alcuni quartieri, perché provengono da alcune famiglie o perché arrivano da dati paesi ma vorrei invece una scuola che promuova delle reali opportunità per tutti. In questi anni la giunta Scanagatti ha lavorato per il bene della città, per migliorare la qualità delle vite delle persone e penso che dobbiamo continuare in questo sforzo con un rinnovato impegno. Per questo motivo l'11 di giugno scegli il Partito Democratico, vota Egidio Riva ed è continuità all'amministrazione Scanagatti.